Martino Martinez, secondo momento dedicato sempre alla musica, ma all'impegno, alla solidarietà, alla generosità, quindi anche all'altruismo. Io addirittura nelle tue note ho letto che sei stato il promotore di una campagna per vaccinare circa 100.000 persone. Sì, questa è una campagna sanitaria che abbiamo cominciato già anni fa, che sta dando grandi risultati nella grande foresta equatoriale. Alcuni di noi partono dall'Italia, vengono insieme a me. Durante l'ultima missione è venuta anche Stefania Petix, la giornalista di Stiriscia la Notizia, la quale ha vissuto veramente momenti drammatici, ma con grande impegno e coraggio, perché lì ci sono delle patologie incredibili. Purtroppo oltre 3.000 bambini al giorno li muoiono soltanto per delle patologie che si potrebbero salvare con una semplice pennicellina, per esempio, ritardo. Immaginatevi che il costo soltanto della pennicellina ritardo è di 60 centesimi, per cui noi andiamo lì dentro questi luoghi, attraversiamo, come poco fa dicevo, queste foreste e ultimamente abbiamo fatto comunque una bella iniziativa anche a Palermo, nella mia città, con la Nazionale Italiana Cantanti. Per la prima volta la Nazionale ha voluto esibirsi e non giocare al pallone, per ali per volare, che è la nostra associazione, in modo tale che si possa ancora una volta raccogliere dei fondi e contribuire a far sì che possa ripartire la nuova missione umanitaria. Ecco perché 100.000, sono molti di più, ma noi speriamo che anche questa vostra trasmissione possa darci ancora maggiore forza. Magari, noi ce l'auguriamo.